Non solo il Vibonese, anche il Catanzarese sotto la lente di ingrandimento da parte dei carabinieri che continuano i controlli sugli 800 km di costa, con una task force operativa composta nei territori di volta in volta interessati dai militari delle compagnie locali, dai reparti speciali, dai nuclei carabinieri antisofisticazione, sanità e spettorate del lavoro, forestali e capitaneri di porto. Finora sono 9 i titolari di strutture turistiche denunciati per violazioni varie, sospese 9 attività commerciali e elevate a senzioni amministrative per circa 200.000 euro, trovati 16 lavoratori in nero, di cui uno minorenne, sequestrati 169 kg di alimenti destinati al pubblico, per la maggior parte pesce, di provenienza non tracciata. Sequestrati anche 2.575 m2 di aree ed emaniali marittime abusivamente occupate. Sulla costa tirrenica, alla mezza terme, è stato effettuato un sequestro di circa 1.000 m2 di spiaggia priva di concessione demaniale, un'attività commerciale sospesa perché va tra i lavoratori irregolari, il sequestro di circa 25 kg di prodotti itici privi di tracciabilità e sanzioni amministrative per un totale di 19.000 euro. A Gizzei e Lido sono state sospese quattro strutture turistiche alle quali sono state contestate sanzioni amministrative penali per un totale di 17.000 euro, a seguito di molteplici irregolarità igienico-sanitarie. Sequestrati 18 kg di alimenti itici e sequestrata anche un'area di 75 m2 per abusimismo sul demanio marittimo. Mentre sul litorale Ionico, a Catanzaro, nel quartiere Lido, maxi multa di 60.000 euro ad un ristorante dove sono stati trovati 5 lavoratori irregolari e molteplici violazioni sulla sicurezza del lavoro. Il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria. In altri due ristoranti della zona marinara sono state elevate sanzioni amministrative per 13.500 euro per carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di tutela del lavoro. A Sellia Marina, il titolare di uno stabilimento balneare è stato denunciato a piedi libero per non aver ottemperato ad un'ordinanza di demolizione per aver occupato abusivamente 1.500 metri di area di magnale, cosdraio e ombrelloni. Sono state anche contestate sanzioni amministrative per un totale di 13.000 euro per la presenza di un lavoratore minorenne e irregolare, per la mancata tracciabilità dai 104 kg di alimenti che sono stati sequestrati, per la somministrazione di bevandi e alimenti senza aver fatto la prevista comunicazione alle autorità competenti e per l'assenza di dotazione di sicurezza balneare. Contestate anche sanzioni amministrative per un totale di 11.100 euro e sospensione dell'attività ad un altro stabilimento balneare trovato in assenza di scia sanitarie e di scia per la somministrazione di bevandi e alimenti, oltre alla presenza di un lavoratore in nero. Grazie a tutti.